Per Regini, la pressione di Suso E' scaricato per Eder, che vuole far correre ancora Regini Grande palla di Eder, grande gamba per Regini Che prova a puntare la porta di Perin Due maglie rosso-bruno in secolo Ancora Regini, la fa scappare per Cassano Sta arrivando Soriano In area di rigore, Soriano La doppietta di Roberto Soriano 3-0 Grande gamba La gamba, la gamba, la gamba La gamba, la gamba, la gamba Sali subito per Cassano House music House music House music House music House music How's music How's music? 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 Prova a liberarsi, Eder è stato Bergessio a respingere il suo tiro, ha recuperato Duncan, attaccato da Mauri, ancora Duncan va dentro l'area, salta anche Rispoli, Duncan dentro, Bergessio, il palo, Bergessio e arriva il 2 a 0 della Sampdoria, 2 a 0 Sampdoria, Soriano ha raddoppiato. Lungata e Zemaili doveva fermarsi prima, c'era già le difficoltà per il difensore della Sampdoria. Altro schema con gran palla di Cassano per Soriano, è la Samp che sblocca dopo 18 minuti, il guizzo di Cassano, il destro di Soriano, in rima, 1 a 0.